Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento presentato dal manager dell'affitto Anna Paro. Ci troviamo arrobbiate in visita in un bilocale non arredato. Ingresso su ampio soggiorno con cucina a vista. Due zone ben separate ed entrambe con l'uscita sul balcone. Il balcone si affaccia sul giardino condominiale. Il disimpegno conduce al bagno con doccia. E alla camera da letto, molto spaziosa e con porta finestra con vista sull'esterno. Per tutti i dettagli su questo immobile puoi visitare il sito www.desio.solaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti. Affittare con sicurezza.